Avete presente un po' Stranger Things? No Vabbè, voi altri, Stefano, non so in che mondo vive in questa estate Ma in Stranger Things praticamente c'è questa città Dove non succede mai niente, non è mai successo niente Stranger Things appunto si chiama la città? No, 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 non si chiama Stranger Things la città C'è questa città che non mi ricordo come... Vabbè, sottolineiamo che Mario non si ricorda il nome della città, della serie Che chiameremo Smallville? Che chiameremo Smallville Non succede mai niente finché un giorno scompare Succede qualcosa Esatto, succede qualcosa, ovvero scompare un ragazzino e poi una ragazza Insomma, conosciamo tutti, o bene o male tutti, come poi va a finire la serie Più o meno l'episodio di oggi è simile Però non ci troviamo negli Stati Uniti ma ci troviamo in Macedonia E la città non è Smallville ma è Kicevo O Kicevo, o Kicevo E... Ma sta poco Kicevo È una città dove non succede mai niente Ma all'improvviso nel 2003 c'è un susseguirsi di sparimenti, scomparse, donne, vecchie Gli sparimenti sono quelli Gli sparimenti quando uno spara E quindi c'è qualcuno però che cerca di indagare e viene nel capo Ed è un giornalista E questa è la storia del serial killer di Kicevo Ah non del giornalista Anche del giornalista Io voglio parlare soltanto del giornalista Credo che alla fine sarai accontentato perché il serial killer insomma arriverà un po' più verso la fine Però... Ok Fai il pieno di black humor con il podcast più scorretto del web Pupazzi da legare La cronaca nera non è mai stata così immorale E bentornati qui in questo nuovissimo episodio di umorismo criminale In realtà il primo se vogliamo di umorismo criminale Ma è sempre lo stesso forno Ma venuti a serial killer d'Italia Il nuovo podcast Serial killer d'Italia Il primo podcast Com'era la sigla? La vecchia sigla? Che vi ungerà le gonadi Sì Cosa del genere Prima di continuare c'è la consueta marchetta Consueta appunto Noi vi chiediamo di sostenerci nel modo che preferite Potete mettere il follow dalla vostra piattaforma podcast preferita Potete diventare Patreon Quindi sostenitori ed entrare a far parte del gruppo segreto Oppure comprare il nostro meraviglioso libro Meraviglioso? Beh non lo so Sopra sarete voi a dire Meraviglioso sicuramente libro Non lo so Eh bravo Che la copertina è figa La copertina è figa È vero Serial killer d'Italia Che è un libro che parla dei più efferati Serial killer italiani E scritto in una maniera un po' diversa In cirillico In cirillico Esatto E un po' di greco Perché no? E senza testo a fronte E anche un po' di macedone A proposito di macedoni A proposito di macedonia Oggi non parliamo di macedonia di frutta Ma macedonia stato paese Macedonia del nord Macedonia e basta Io su questa cosa sinceramente l'ho capita un po' poco E ci spostiamo in una città Facciamo un viaggio nel tempo Torniamo indietro All'Alessandro Magno Di una ventina d'anni Di secoli Esatto E torniamo in questa Andiamo in questa città In questa città dove Non succede mai niente Fondamentalmente Mario ma succede qualcosa in questa puntata? Perché è la decima volta che dici che in questa città Non succede mai niente Fino adesso Ahà Cioè fino a Adesso Che io parlo Capito? Adesso che sto parlando In diretta Sta accadendo qualcosa Stiamo in diretta da Kicevo Da Kicevo In Macedonia E un paese Era Ah ma tuttora insomma Se nel 2005 C'erano 30.000 abitanti A oggi ce ne saranno 45.000 Diciamo che 10 ne sono morti Con sta puntata Quindi diventano 29.950 10.000 Insomma Sono tanti Però vabbè Un paesino di 30.000 abitanti Nella Macedonia Occidentale Dominato dalle cime Del vicino Monte Bistra È un paese Lento e assonnato Si potrebbe definire in questo modo Cioè non succede niente La gente è tranquilla Diciamo Il grado culturale È particolarmente basso Ma fondamentalmente Sono tutti Agricoltori Operai Cioè Una cittadina Un po' così Inutile Volendo Ciao Axel Labs 20 Grande Axel Come stai? Ma io questi due li conosco Eh già Beato te Noi siamo quei due Io non lo conosco Diciamo La strada principale Che porta da Scopie Che è una città Che si trova al nord di Macedonia All'olocuste di Hori Passa per Kiceva Kicebo Ma Ecco Non si ferma mai nessuno Perché fondamentalmente Non c'è nulla da vedere Tutti in fretta Tutti Esatto Che cosa succede? In questa città tranquilla A un certo punto Nel 2003 2004 Un po' di gente Sparisce Nel 2003 o nel 2004 Allora In particolare nel 2004 Perché diciamo che è la data Dove cominciano le sparizioni E i ritrovamenti Nel 2003 cominciano solo le sparizioni Perché nel 2003 Sparisce una certa Gorika Pavleska Che è una donna Sui 73 anni Che come lavoro Fa la La colf La Pavleska Fa la domestica Fa le pulizie In poche parole E scompare Nel 30 maggio del 2003 E non verrà Mai ritrovata Ok? Dal fatto che comunque Non verrà mai ritrovata Questa donna Fondamentalmente Tutta gente Se ne frega il cazzo Diceva Vabbè Non lo troviamo più Semmai un giorno Ce ne faremo una ragione Lo sai che c'è Lì non è che hanno il mare Dove possono buttare le cazze C'è la Croazia Prima del mare O la Grecia Credo la Grecia Confina a ovest A ovest? Allora Ho un po' di confusione La Macedonia si trova tra La Croazia sta tutta Sta tutta sul mare Sta tutta sull'Audiatico Sta tutta sul mare A sud della Croazia C'è la Grecia E subito di là A est C'è Macedonia Credo sia giusto così Più o meno Non so Magari Paese più Paese meno Comunque non sfocia sul mare Quindi il mare Non riporta i cadaveri Ed è molto difficile A meno che Non vengano gettati In sacchi dell'immondizia Cosa che Ci arriveremo a breve In poche parole Sparisce questa donna È il 30 maggio Ma di lì a poco Non succede niente Ma ecco Il 16 novembre del 2004 Scompare un'altra donna Che si chiama Mitra Simianosca Ora Scuserete anche un po' le pronunce Però insomma So quelle che so Scomparsa il 16 novembre del 2004 Dopo una gita al mercato Così sembrerebbe E poi i mercati sono pericolosi Al giorno d'oggi È stata ritrovata Il 12 gennaio del 2005 Questa povera donna Ed era stata strangolata Legata Torturata E violentata Ed era morta In meno di due settimane Quindi un anno Era stata No 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 Un paio di mesi Un paio di mesi Un paio di mesi È sparita Però è morta Questi due mesi Pare sia stata Seviziata Violentata Torturata In qualche modo E di lì In avanti Si continua Così Una vita di tutti i giorni Non succede mai niente Una donna è scomparsa E un'altra È stata ritrovata Praticamente mutilata Dentro dei sacchi Dell'immondizia Vabbè Dove la vuoi mutilare? Certo Certo No no Per carità Dove la vuoi lasciare? Se non c'è il mare Mutilito dei sacchi Spero che almeno L'abbiamo messa nell'umido Non lo so Questo non lo sappiamo A chi perché non credo Ci fosse la raccolta La raccolta Indifferenziata Erano molto immurali Eravamo molto Eh ma perché noi invece Adesso Non è che siamo molto meglio E ancora L'Ibica Likowska Mi è cascato il ventaglio Ok L'Ibica Likowska Che è scomparsa All'inizio del 2007 Più o meno gennaio Così No all'inizio di novembre Scusate gennaio Di quest'anno All'inizio di novembre del 2007 Dopo essere andata A fare la spesa Anche lei E' stata trovata Il 3 febbraio Del 2008 Anche lei Era sui 65 anni Comunque sono tutte donne Che vanno dai 60 Agli 80 anni Più o meno 60, 65, 73 anni Ed era stata strangolata Legata Picchiata E violentata Ed era morta In pochi giorni Anche questa medesima Donna Ciao Michele Scusate il ritardo Vabbè questa volta Sei giustificato Ciao Alex Che aveva fatto un saluto volante Scappa Ok ciao Alex E in poche parole Viene trovata anche Quest'altra donna In questo caso però È un po' diverso Perché Viene trovata sempre All'interno dei sacchi Della spazzatura Però praticamente Era stata legata Con un cavo del telefono Mentre Simeonovska Era stata legata Con una corda Che poi pare sia La stessa corda Con cui era stata strangolata E anche Liubica Era stata strangolata Legata Con la stessa corda Con cui era stata strangolata Quindi erano tipo Legate fra de loro Esatto Palle di Natale Esatto No non erano legate Fra de loro Cioè ognuna Aveva la sua corda Il suo cavo telefonico Con cui era stata legata E precedentemente Quindi diciamo Ammazzato Ammazzato Ce l'aveva pure investito Nel senso Comprare un cavo telefonico Diverso per ogni donna Allora È dedito al lavoro Sì Sì Stacanovista Uno stacanovisca Stacanovista Scasca Scasca Due uomini Vennero accusati Dalla polizia macedone Dell'omicidio Di quest'ultimo omicidio Di Liubica Licosca Fì adesso diciamo Che sono morte due donne E una è scomparsa Ah vedi Michele ci dice Che solo per me L'audio e il video Sono fuori sync Diteci ragazzi Se l'audio e il video Sono fuori sync Per tutti Perché se così fosse È un problema È un problema Perché ha sistemato Ha sistemato Sistemando Ho fatto dei danni Ma considerando Che tanto non abbiamo Tante live Ho detto Vabbè ci provo Tanto questa poi va in podcast E invece mi sa Che ho fatto Quindi capito Vi sta considerando poco No non vi sto considerando poco Non vi sto considerando affatto Esatto Volendo anche No Non è vero In realtà lo sto facendo per tu Per me è in sync Ma ogni tanto Vi blocca Ah quello sì Allora se è in sync Per te In sync Non per Michele Allora il problema Non è nostro Però magari su Ale C'è la tenza nell'alba E non vaga lì Io lo dai Sì andate a scatti E siete fuori sync Ogni tanto Vabbè No Mara Dice no Intanto ciao Mara Vabbè Ho creato problemi Ad alcuni Ad altri no Ho selezionato Delle persone Vabbè questo non ci interessa Per adesso Grazie Per la segnalazione Sicuramente poi andrò A sistemare So già forse Dove dovrò rimettere mano Ma quantomeno Non ci dovremmo bloccare Più come prima Io butterei il computer Io anche 1500 euro Così Nel caso Ma non solo Poi prendi altri 1500 euro E butti pure quelli No gli do fuoco Gli do fuoco Hai sempre delle idee Faccio un video È vero Allora Due uomini Vennero accusati Della polizia macetone Dell'omicidio Della donna E successivamente Arrestati Perché Vennero accusati Questi due uomini Si tratta di Risteschi E Igor Mirceschi Ante Risteschi E Igor Mirceschi La Valentina dice Io vi ascolto Senza guardarti E Michele Io li guardo Senza ascoltarli Perfetto Vi voglio bene ragazzi Avete sempre una soluzione Ottima Ad ogni problema E praticamente Questi due ragazzi Sono stati giudicati Colpevoli di aver ucciso Sia La La prima vittima In realtà Che non era di Cosca Ma era Simianosca O Sianosca Perché poi A seconda delle fonti Cambiano Date Nomi È un po' un casino Siamo abbastanza certi Che finisse con Osca Esatto Mi hanno ucciso una matri Osca Perché le donne Finiscono con Osca E gli uomini Coschi E gli uomini lui all'altra signora perché entrambi erano signori anziani entrambi potevano essere colpiti e quindi hanno accusato loro i due ragazzi di Steschi e Mirceschi hanno ammesso la violenza la violenta tortura all'omicidio del vecchietto Bozinoski fornendo anche dei resoconti abbastanza dettagliati su quello che avevano fatto sul loro crimine ma hanno sempre stranegato fermamente di aver ucciso la signora Silianoska o Simianoska tra l'altro Rizzieschi aveva affermato di aver lavorato lontano da chi cevo il giorno in cui era stata rapita la signora e che la polizia aveva picchiato e costretto a confessare i due uomini anche di quest'altro omicidio capito se tu non vuoi confessare io ti picchio e ti costringo è giusto? certo 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 poi eri innocente magari all'omicidio della signora Likoska invece che era la seconda vittima molto simile alla Simianoska si aggiunge un terzo omicidio quindi arriviamo a una donna scomparsa e altri tre omicidi ovvero una certa una certa Zivana Temelskowska scomparsa il 7 maggio del 2008 dopo una bufola sul ricovero in ospedale del figlio ovvero praticamente dei ragazzi a quanto pare c'era questa bufola avevano detto a questa signora oh tuo figlio è stato ricoverato corri a vedere come sta invece è stata trovata poi il 16 maggio quindi una settimanella dopo morta, seviziata, dentro in sacco, stuprata sempre col cavo del telefono che era stato usato sia per strangolarla che per legarla mi passa a essere la fibra ottica insomma torturata, violentata, strangolata fibra ottica funziona una lampadina se te la metto sto mettendo per voi i podcast una lampadina in testa a Stefano ma no, non funziona Michele ci dà un'informazione importante che dice se il cognome di una donna finisce in ska è il cognome del marito probabile questo non lo so probabilmente non è neanche vero Michele però sì, no, in realtà potrebbe essere straprobabile no, diciamo che no, non è che non mi fido sinceramente ho semplicemente ecco, ho trovato queste due somiglianze tra i cognomi femminili cioè per ditte Simianosca, Lagosca, Temelkosca, Pavlesca e poi c'è stato i ragazzi Rizzeschi, Mirceschi quindi sì, probabilmente hanno cambiato magari l'ultima lettera e hanno preso il cognome del marito e insomma, al processo del 2005 questi due ragazzi vengono arrestati vengono accusati di quest'altro omicidio ma quando viene ritrovato il cadavere della terza donna morta quindi la quarta scomparsa ma terza ritrovata morta Temelkosca i due ragazzi vengono comunque prosciolti da quell'omicidio non da quello del vecchietto perché comunque il serial killer il macellaio di Kicevo il serial killer di Kicevo sembra essere ancora in circolazione bene perché se no un tatare un po' scarna finiva qua e non è finita qua a prendere in mano la situazione c'è un giornalista uno di uno che comunque sa muoversi del mestiere che decide che decide di scrivere di raccontare al popolo macedone tutto quello che sta succedendo riguardo questo serial killer è un uomo sui 56 anni lui si chiama Vlado Taneschi tornando alla mia teoria che tutti i cognomi finiscono con Ski forse perché fanno un po' schifo vabbè me ne vado è un professionista stimato da molti e con 20 anni di esperienza giornalistica alle spalle quindi non è l'ultimo arrivato insomma è uno bravo forte eccetera pure Travaglio ha anni di esperienza giornalistica ma questo non fa di lui un bravo giornalista allora ma parliamo un po' di questo Taneschi perché Taneschi comincia ad appassionarsi a questa storia durante la seconda vittima di Koska e quello che scrive nei suoi articoli diciamo che è pieno di particolari molto vivido sembra quasi un giallo un romanzo una roba alla Agatha Christie più che un articolo giornalistico lui è veramente appassionato in più diciamo che viene da un periodo un po' particolare per il suo lavoro la sua vita personale insomma la moglie si è dovuta trasferire perché è diventata primo avvocato macedone donna della storia si è dovuta trasferire a un'altra città sul nord ma loro continuano a stare insieme lui sul lavoro viene un po' bilipeso ma comunque sia ha sempre un certo rispetto e quindi ha bisogno di rivalza di riscatto e decide che in questo caso sarà il momento giusto l'occasione giusta per scrivere finalmente cose decenti io devo bere arrivo e quindi ma parliamo un po' di questo Vlado Taneschi perché di solito ecco con i serial killer quello che facciamo prelato Taneschi di solito con i serial killer che cosa facciamo magari ecco cominciamo sempre parlando no è nato però siccome adesso il serial killer non si sa chi è potremmo fare con Taneschi quindi conosciamo meglio questo giovane ragazzo Taneschi nato nel 1952 andiamo avanti nato nel 1952 a Kicevo quindi nasce e vive sempre lì non te lo dico se è lui perché sinceramente è anche banale però vabbè suo padre Traian aveva combattuto Traian si chiama tra l'altro sembra tipo un robo giapponese nella seconda guerra mondiale aveva lavorato in una fabbrica di legname per la maggior parte della sua vita un tipo abbastanza fisico se vogliamo dire ma non violento semplicemente sembriagava magari ogni tanto gli metteva la corna alla moglie ma niente di che la corna la corna una sola sua madre invece Corica era una donna delle pulizie presso l'ospedale locale all'età di 21 anni conobbe la sua futura moglie Vesna appunto la donna che prima vi dicevo prima che diventerà avvocato il primo avvocato macedone donna eccetera ma nomi tipo non so un futuro distopico tipo 1984 Vesna e Tryan Vesna e Tryan dalla quale ebbe anche due figli due figli comunque avranno anche loro una carriera importante in altri ambiti accademici non lo so se gli ho trascritti i nomi dopo vediamo negli anni 80 lo stesso Taleschi ha lavorato come reporter per i giornali Nova Macedonia che tra tutto è Nuova Macedonia altrimenti che Eutrinski Vesnik tradotto dovrebbe no dovrebbe essere la versione di Il Post macedone quindi Il Eutrinski e Vesnik è post faccia che parla se il mio articolo Eutrinski Eutrinski madre Allora di Scopie lavoravo a Scopie nel 2002 alcune altre fonti invece dicono nel 1990 vi ripeto le fonti riguardo questa storia sono un po' strane e poi arriveremo anche un po' a questo discorso nel 2002 il padre purtroppo si suicidò abbiamo già detto che era un po' alcolizzato eccetera e la madre invece andò accidentalmente in overdose dei medicinali quindi insomma un periodo un po' particolare che come vedremo ma morta eh sì muore la madre muore muore Taneschi fu licenziato poi in seguito nel 2004 da Nova Macedonia perché si era suicidata ah la tua madre si è suicidata io li ti licenzo esatto probabilmente sarà stato quello il motivo e sua moglie ricevette appunto questa mega promozione e si trasferì a Scopie la moglie la moglie eh Besna Besna però Vlado comunque diciamo mantiene una certa degnità perché vent'anni di esperienza come giornalista di certo non si servono a cancellare tutto quel brutto che gli succede intorno tra l'altro era padre di due figli meravigliosi ehm una persona abbastanza socievole sposato da 31 anni eh lui e la famiglia erano membri rispettabili rispettati della comunità di Chi Cevo quindi tutti quanti comunque c'avevano un'ottima considerazione di tutta la famiglia eh si era qualificata come prima donna avvocato della città appunto avesna l'abbiamo già detto suo figlio maggiore Zvonko Zvonko era stupido era no per niente in realtà era un importante accademico linguista e poeta in slovacchia si però capito Zvonko te lo immagini tipo il garzone è stupido se mai scriverai un libro dello stupido della situazione lo chiamerai Zvonko ok e il suo secondo figlio Igor o Igor prestava servizio come medico nell'esercito macedone insomma allora lei è avvocata lui giornalista uno accademico uno medico giornalisto giornalisto scusate o giornalistu e lei è avvocato giornalist giornalist insomma una famiglia del certo livello nel 2004 Besna è stata promossa dal ministero dell'istruzione alla posizione di ispettore universitario con sete a scopie quindi ha comprato un piccolo appartamento nella capitale e la coppia ha pianificato di trasferirsi lì definitivamente i fine settimana sono stati trascorsi insieme a Kicevo e poi a scopie c'è da dire che dalle fonti diciamo ho trovato una fonte che sembra molto più plausibile perché tante fonti dicono ah loro in realtà siamo divorziati e tutto quanto in realtà lui appoggiava molto la moglie e fu lui stesso a spingere quest'ultima a trasferirsi insomma ha detto a dirgli poi verrò con te mi trasferirò peccato che in questo proprio periodo di trasformazione di cambiamento appunto il padre era morto suicida e la madre era morta di overdose quindi una famiglia in carriera una famiglia in carriera insomma Vlado è stato molto favorevole alla mia mossa ricorderà poi Besna o Benza Besna Vonsna ricordo Vlado è stato molto favorevole alla mia mossa e ha detto che non vedeva l'ora di unirsi a me voleva che perseguissi e realizzassi la vita che volevo aveva un atteggiamento molto progressista soprattutto per una piccola città come Kicevo la gente era invidiosa di noi quindi non c'era solamente rispetto ma c'era anche un po' di vita perché ripetiamo che Kicevo era una città un po' de merda non lo so un paragono italiano alla città di Kicevo no 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 preferiamo non dirlo forse non lo sappiamo non vogliamo offendere nessuno comunque continuando a prestare a mandare elogi al giornalista che poi si interesserà ai casi del mostro di Kicevo ha ricevuto numerosi premi per i suoi reportage per Nova Macedonia all'inizio degli anni 90 e da un pezzo di Plavo Daneschi pubblicato da Nova Macedonia il 19 maggio 2008 possiamo leggere un po' quello che raccontava e come raccontava la vicenda del mostro di Kicevo vado a leggere la gente di Kicevo vive nella paura dopo che un altro corpo massacrato è stato trovato in città il cadavere somiglia molto a quello scoperto a 20 km di Kicevo l'anno scorso e c'è la possibilità che questi mostruosi omicidi siano opera di un serial killer ovviamente parla dell'ultimo cadavere che parla trovato è di quello di Temelkowska e quello precedente di Likowska ok una delle scale sopra le scale esatto vediamo se lo ritrovo eccolo qua c'è la possibilità di un serial killer entrambe le donne sono state torturate e uccise allo stesso modo il che esclude la possibilità che ciò possa essere stato fatto da due persone diverse il serial killer di Ocrid ha ucciso tre persone riferendosi a un altro serial killer che evidentemente girava in Macedonia in quel periodo nel 2007 ma le sue vittime erano tutte cambiavalute di strada e il suo movente era derubarle quindi insomma percepisce anche lui che il momento dell'assassino è un momento un po' più serio un po' più viscerale un po' più profondo scuro un po' più viscido un po' più un po' più oh ma Crash the Grimm ha appena subscriptato Prime oh grazie ah un ulteriore modo per sostenerci tra l'altro si fatelo fatelo tutti fatelo tutti prima che aumenta dai dai sbrigatevi il motivo del mostro di Chicevo rimane poco chiaro entrambe le donne erano amiche e vivevano nella stessa parte della città la polizia ha alcuni sospetti che stanno interrogando alcuni sospettati però qui non lo so è trascritto sospetti l'ultimo cadavere è stato ritrovato in una discarica era stato legato con un pezzo di cavo telefonico con cui la donna era stata chiaramente strangolata in precedenza in un altro reportage invece per Nova Macedonia Tanessi scrisse che secondo i suoi amici e parenti Zivana Temerskowska ovvero l'ultimo cadavere l'ultima vittima del mostro di Chicevo chi c'era? Chicevo era stata portata via in macchina mentre era fuori a fare la spesa in un negozio vicino da due uomini non identificati che l'avevano detto che suo figlio era rimasto ferito in un incidente statale ora c'è una cosa che dobbiamo sottolineare in questi due articoletti primo che nel primo dove lui dice che la polizia che era stata ritrovata con dei cavi telefonici con cui era stata probabilmente strangolata non era stato riportato dalla polizia cioè non era stata pubblicata come notizia c'è da dire che ogni giornalista che si rispetti ha comunque le sue fonti quindi non è detto che una notizia che la polizia non fa trapelare è eventualmente una notizia falsa inventata o magari che fa sospettare qualcos'altro però sta di fatto che le notizie questa qui in particolare del telefono del capo non era stata pubblicata invece nel caso del ritrovamento di Tamer Scosca con questa storia che praticamente c'erano due giovani che le avevano detto che il figlio era stato ricoverato questa cosa non si sa da dove l'aveva sentita tant'è che probabilmente si era inventata di sana pianta c'è da dire che intervistando alcuni degli amici del nostro amico giornalista pare che lui ogni tanto nonostante la carriera nonostante tutte queste belle cose ogni tanto o rubava qualche articolo o sementava proprio le cazzate cioè sementava di sana pianta quindi una fonte affidabile quindi una fonte vabbè era un giornalista nel 2008 sai com'è era un po' più facile eh lo facevano nel 2008 lo facevano lo facevano in più Tanensky fu lui per prima a suggerire che gli omicidi fossero dello stesso uomo ora si diciamo tutte le donne uccise o scomparse quindi in totale tre uccise e quattro scomparse erano tutte sopra i 60 anni tutte donne diciamo culturalmente di basso livello cioè ignoranti fondamentalmente tutte donne che lavoravano come donne delle pulizie tutte donne che lavoravano come donne e tutte donne che se mi avete ascoltato prima quando vi ho parlato un po' della famiglia di Talensky appunto facevano lo stesso lavoro che faceva la mamma di Talensky anche la mamma di Talensky era una signorotta che faceva la pulizia e ignorante che ha trovato la sua morte sopra i 60 65 anni con overdose accidentale con overdose accidentale eccolo qua un Trinsky Vesnik che significa morning post ok ora posso dormire sogni più sereni puoi dormire sogni più sereni stai zitto ok la rivelazione sembra sembra anzi è anzi no sembra perché poi ci arriviamo sembra essere sembra essere l'epilogo scioccante ma ingegnoso di un romanzo poliziesco perché è la storia perfetta per il pubblico e per i media ovvero come affermò anche Errol Rizov direttore esecutivo dell'Utrinsky Vesnik un giornale per la quale Taneschi come ho detto prima aveva lavorato il giornalista uccide di notte e la mattina dopo racconta le sue uccisioni cioè in poche parole Taneschi era sia il serial killer che il giornalista che poi il giorno dopo scriveva gli articoli sui propri omicidi ovvero che raccontava tutte le merdate che faceva fondamentalmente ma chi l'ha detto sto Errol sto Errol e adesso andiamo a capire il perché diciamo che dagli articoli trapelati da da Taneschi la polizia comincia a farsi due domande cioè com'è che questo sapeva del cavo telefonico com'è che questo sapeva dei due ragazzi che avevano detto alla signora che il figlio era ma non è che è putacaso anche perché i due ragazzi che erano stati precedentemente accusati dell'omicidio della seconda vittima ritrovata dentro i sacchi dell'immondizia i dna che era stato poi prelevato non corrispondeva effettivamente al dna della vittima cioè ritrovato sul corpo della vittima stessa invece il dna di Taneschi combacia perfettamente Taneschi è il mostro di Kicevo il serial killer di Kicevo giornalista di giorno e serial killer che c'è Merlamp 92 che dice a sto punto potevano chiamarlo il killer delle vecchie ignoranti e c'ha ragione sì e c'ha ragione perché appunto andando poi a ristudiare un po' la storia di Taneschi non vi ho detto proprio tutto perché sì il padre era un vecchio un vecchio guerriero combattente della seconda guerra mondiale ubriacone e la madre sì era un po' gelosa del padre ma questa relazione un po' contorta fra i due ha inevitabilmente trasmesso delle insicurezze e delle devianze al figlio Taneschi che tra l'altro era il secondo di tre figli quindi non era neanche l'unico a sopportare queste cose tanto che Taneschi da che era un ragazzino bravo a scuola talentuoso eccetera Tanescoso Talent Taneschi Tanescoso Tanescoso esatto un ragazzo Tanescoso da questo in adolescenza comincia che ne so entra a far parte di baby gang comincia tipo a spacciar roba comincia a essere un po' criminale diciamo nel suo modo di vivere la sua vita ma che cosa ho mai fatto ah tu perché tu adesso vorresti dirmi che eri membro di una baby gang eravamo in uno come te chiamavate Stefano Stefano i Stefano i Stefano dovevano essere tutti pelati con gli occhiali e cava barba soprattutto cava barba noi non facciamo niente noi eravamo una baby gang stavate seduti su un muretto a guardastorto di vecchiette basta tant'è che la madre oh voglio salutare Carol che dice ciao ragazzi ho visto la notifica solo ora sicuramente non so come è colpa di Mario ciao Michele che devo scappare ascolterai il resto in podcast ciao grazie per essere passato va bene dai si va bene ragazzi 10 agosto insomma recupererete in podcast il 10 settembre questo episodio o altrimenti se siete Patreon stasera domani la ripubblichiamo solo per i Patreon quindi andate tranquilli non vi preoccupate anche perché il video è quello che è ma se volete stare con noi e commentare ci fate contenti ciao Claudio grande Claudio ma che coglione mi sono dimentichato è colpa di Mario è colpa di Mario è colpa di Mario oggi Stefano non lo so che danni hai fatto oggi niente ha fatto il bot ha ucciso il cane è colpa mia è colpa mia ma quella serietà di Stefano prima mi hanno detto sembro depresso no sì Stefano in realtà vabbè lasciamo perdere non gli va di stare qui stiamo in ferie stiamo in ferie tutte e due solo che io vedete la passione invece lui lo so appassionatissimo di sudore la passione del sudore ok e quindi torniamo a noi in poche parole la madre per cercare di recuperare Talensky per cercare di riportarlo sulla retta via comincia a pressarlo un po' ma come fanno giustamente tutte le mamme e Talensky che fa dice vabbè per non farmi rompi i coglioni fammi essere bravo fammi tornare a studiare infatti poi lui ricomincia una vita accademica veramente invidiabile eccetera ma la madre pare che si accollasse particolarmente tanto da deviare ulteriormente la mente del ragazzo infatti le vittime le donne probabilmente già l'avrò detto che lui andrà a uccidere saranno tutte vecchie sui 60-65 anni quindi si presume l'età della morte della madre questa cosa non l'ho trovata è una mia idea ma che comunque erano ignoranti e facevano la donna le colfe quelle che oggi è le domestic quindi le donne delle polizie si è creato questo odio nei confronti della madre ha voluto uccidere la madre e tutte quelle che gli assomigliano esattamente pare in realtà che o gli assomigliavano ste donne ste vecchie oppure erano addirittura conoscenti della madre perché tra di loro ste vecchie alcune si conoscevano e probabilmente conoscevano lo stesso Tanensky e la mamma di Tanensky ma comunque a quanto pare il pensiero del ragazzo o dell'uomo ormai perché quando ha cominciato a compiere i suoi atti l'uomo ragazzo i atti omicidi era 56enne quindi insomma non era proprio non era da poco fino l'adolescenza diversamente giovane era un diversamente giovane a quanto pare il suo desiderio più recondito e nascosto era quello di scoparsi la madre violentarla se viziarla a volte amputarla perché insomma alcuni cadaveri pare che siano stati addirittura amputati in diversi sacchi dell'immodizia insomma non stava bene non stava bene e quindi la e quindi la sera del 20 giugno del 2008 quindi poco dopo tra l'altro uno degli articoli che prima vi ho letto che aveva data 18 maggio due giorni dopo che era stato ritrovato il terzo cadavere viene finalmente arrestato perché insomma viene messo sotto osservazione viene prelevato del DNA viene confrontato sotto formaldeide viene smesato inserito sotto formaldeide e viene finalmente attestato che Tanensky era e pare abbastanza confermato il killer di Kicevo quella sera fu trasferito in una prigione a Tetobo una cittadina a 70 km a nord di Kicevo prova a scappare perché se scappi poi Tetobo la sapete si scappi Tetobo bravo 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 Stefano è arrivato alle 20 e 40 il sabato 21 giugno il giudice locale ai Rula Idrizi quindi la mia teoria per la quale i macedoni fanno tutti cognome con schif finale è andata a farsi benedire conferma durante un colloquio del suo ufficio di Tetobo che Tanensky era stato ricoverato in carcere in buona salute quindi tutto sta a indicare tra l'altro lui era stato arrestato non ha fatto resistenza non disse praticamente nulla ed è stato portato in prigione ho già scritto tutto l'assassino seriale di reggi tu che io da qua non ci vedo bene Zdore Comari Balconare che vuol dire Zdore spiegaci Carol questa cosa che sono curioso no Comare Balconare ok delle vecchiette rompicoglioni ah ok Zdore mi piace come nome ci chiamerò mia figlia Zdore invece Zboka lo stupido a causa del sovraffollamento tuttavia Taneschi non poteva essere a Taneschi non gli poteva essere data una cella tutta per lui quindi fu costretto a condividerla con altri tre carcerati e due dei prigionieri il 22enne Narset Ademi il 28enne Albert gli azi sono stati accusati di irregolarità in merito alle elezioni parlamentari inizio giugno quindi queste sono le accuse invece il terzo Izair Farisi 49enne era stato processato per l'avvelenamento e l'omicidio di una ragazzina di 14 anni quindi condivideva la cella con questi tre tizi Zdora donna di casa in dialetto emiliano ah ok Zdor figlia di Khmer Zdor figlia di Khmer che è una tribù di Star genio Brado Tanezzi praticamente tutti quelli con ski non ce stanno più adesso finisco tutti con zii in carcere esatto adesso finisco tutti con zii cambiano cognome in carcere esatto appena vengono carcerati non è più Tanezzi ma è Tanezzi Brado Tanezzi è stato trovato ah no aspetta non ci voglio arrivare prima insomma durante questi due tre giorni in cui era stato incarcerato in sé a questi due Tanezzi riuscì a parlare per esempio con la moglie che in realtà ricevette un telegramma ufficiale che confermava alcune cose che adesso non vi dico sono state trovate delle note dove era quella cosa che parla con la moglie bla 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 è stata bla 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 vabbè non lo trovo non lo trovo probabilmente l'ho scritto più avanti per qualche motivo ah lo so io per qualche motivo perché in realtà poi ci sarà un ennesimo colpo di scena Brado Tanezzi è stato trovato in seguito morto dalle guardie carcerare a lunedì 50 del lunedì mattina in alcune fonti in realtà c'è scritto il 21 giugno che doveva essere sabato che era stato trovato molto morto il giorno dopo molto morto molto morto il giorno dopo da quest'altra fonte in realtà pare sia stato trovato morto il lunedì vabbè il succo è morto è morto è morto è morto importante è quello a te tovo l'hanno tovato morto il giorno dopo dopo che uno dei suoi compagni di cella aveva lanciato l'allarme era sdraiato nel bagno della sua cella apparentemente annegato in una piccola in un piccolo secchio d'acqua sporca e tutto era stato per andarsene da questo mondo e tutto era stato effettivamente archiviato come suicidio cioè la teoria è che lui abbia riempito un secchio d'acqua sporca ci abbia infilato la testa dentro finché non ha perso i sensi e di conseguenza la vita ha voluto annegare nell'acqua sporca ma io vi dico provateci no ma provate voi ad annegarvi beh scusa basta che quando tu dei istinto cerchi di dire sulla testa con la mano te continui a tenere giù ah eh sì è facile no non credo e so che non sei serio quindi non ti cacherò e andrò avanti per la mia strada quando le cartoni Bugs Bunny si tira su per le orecchie ah sì probabilmente i prigionieri sono state date bottiglie di acqua potabile secchi di plastica di acqua del rubinetto per il lavaggio perché a quanto pare non c'era abbastanza acqua all'interno del carcere e lui usò appunto uno di questi secchietti d'acqua per ammazzarsi dopo averla sporcata alle 17 di quel pomeriggio la moglie di Taneschi appunto ricevette il telegramma ufficiale con la conferma del suo esicidio e sono state trovate due note scritte a mano che i grafologi successivamente verificarono fossero appunto stati scritti da Taneschi una nota sul suo corpo che indirizzava le autorità su una seconda nota nascosta in un cuscino del suo letto una cosa folle a quanto pare dove lui diceva e scriveva sono orgoglioso della mia famiglia e li amo moltissimo non ho fatto nessuna delle cose di cui sono stato accusato non ho commesso questi obiciti quindi nonostante non sia mai stato fatto un processo nonostante non sia mai stata effettivamente confermata una colpevole una colpevolazione una colpevolezza ok grazie una colpevolezza nei suoi confronti colpevolazione secondo me è più è più sexy ha più accomodazione ha più accomodazione pare che comunque niente lui si giudicasse innocente a settembre i media macedoni hanno riferito che l'indagine sarà ufficialmente chiusa a settembre del 2008 parliamo quindi l'indagine venne chiusa perché il diritto penale del paese non consente il perseguimento di una persona deceduta perché poi il problema la devi tenere in carcere da morta la persona deceduta se la condanni tu immagini gli danno il pasto gli danno la saponetta per la massa e non è tanto va in decomposizione l'ora d'aria lo trascina con un cane legato c'è un cane che lo trascina per l'ora d'aria va bene do you have puppets first time chatting actually actually we do but we don't use it anymore we use we used to use them them esatto now we don't because of are you on snapchat no we are not on snapchat we are snapchat we are snapchat you can find us on instagram or tiktok but tiktok is but why we don't use tiktok we have only an account don't search us on tiktok che inglese di merda questo accento italianizzato del cazzo ah ok ok i'm happy for you ok ti verremo a trovare we will looking for you ok ok è una minaccia è una minaccia comunque andando avanti con questo discorso ciao danila ciao danila che dice carol papa formoso che viene processato da morto dal suo dal suo successore pivelli cosa non lo capisco no oddio non l'ho capito sono stupido mario ti devo dire una cosa non lo sapevi sono tutti questi anni io sono stupido ok andiamo avanti con l'episodio al momento l'unica prova che la polizia ha reso pubblica cioè al momento all'epoca l'unica prova che la polizia aveva reso pubblica appunto era la corrispondenza del dna tra taneschi e temelkoska temelkoska di stavo per stavo per dire supponendo che l'analisi al laboratorio sia accurata in macinodia dove sembra esserci poca fiducia nelle istituzioni statali i sostenitori taneschi sostengono che questa sia una grande ipotesi coloro che protestano contro l'innocenza di taneschi devono avanzare un'importante teoria del complotto che qualcuno in autorità sapesse entrambi chi fosse il vero assassino ed è stato e ha cambiato i campioni per incrastare taneschi e questa cosa in realtà è fattibile perché yes one moment please un attimo adesso li mettiamo nella mano ma lo faccio subito io lo metto subito eccolo qua eccolo qua eh ti piace? eccolo qua lo metto qua e a quanto pare era abbastanza possibile questa cosa io mi metto qua tipo a quanto pare era abbastanza possibile questa cosa no niente si blocca era abbastanza possibile perché taneschi comunque usava scrivere degli articoli contro dei personaggi che quanto pare avevano addirittura minacciato la famiglia e parliamo di politici parliamo di altre cariche Merlamp dice Mario ma una prossima volta una storia con nomi normali no no mi dispiace ma a me piace tanto questa storia ragazzi c'è tutto c'è l'intrigo il mistero c'è Tetovo c'è Tetovo c'è il giornalista che in realtà è il serial killer cioè ti pare un romanzo di come si chiama io uccido dai chi l'ha scritto dai aiutatemi ce l'ho Faletti bravo Faletti ce l'avevo qua sembra un romanzo di Faletti ragazzi è bellissimo è stupendo e qui ti pare che Zobar direttura c'è qualcuno che pensi sia stato incastrato fa caldo sto sudando con questo coso scusatemi tieni reggila Kavesky nega anche che la polizia o chiunque abbia autorità avrebbe incastrato Tanensky Kavesky sarebbe il poliziotto che aveva mandato avanti le indagini dove dice ragazzi dimocazzate è stato lui il DNA e il movente e tutta una serie di situazioni pare 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 che insomma ci siano poche problemi come il giornalista aveva scoperto qualche trasgressione ufficiale o si era fatto un pericoloso nemico e insomma confuta anche l'accusa secondo cui la polizia in particolare l'unità per la criminalità violenta inviata da scopi avrebbe subito avrebbe subito forti pressioni per ottenere una condanna e da qui ci sono anche e da qui ci sono anche i dubbi ho baciato me stesso dall'altro anche i dubbi riguardo la sua morte perché uno dice sì ma l'ansia c'hai l'ansia Mara penso fosse un riferimento al caldo HDB Frong ah ok sulla sua morte perché suicidatosi dentro un secchio sembra un po' improbabile comunque l'acqua era semplicemente sporca non era stata modificata con delle robe chimiche dei sonniferi o roba simile quindi è probabile poi c'è un'altra cosa che è stato riferito dai media macedoni che la polizia di Kicevo stava cercando un serial killer con sangue di gruppo B e il gruppo sanguigno di Vlado era lo più e invece Koteveski lo più perché ho scritto ho più era zero zero più scusate lo più ho più grazie ai miei ogni tanto succede lo zero più ma quanto pare anche lo stesso Koteveski dice ma che cazzo state di ne vero niente de qua de là insomma ne vero niente Carol ci dice rispetto a prima quel commento che da bravo coglione non ho capito era un riferimento al fatto che il processo non fosse continuato perché l'imputato era morto mentre Papa Formoso appunto è stato processato dal Papa successore da cadavere per maggiori informazioni c'è l'articolo su Wikipedia Silvio del cadavere me lo vado a vedere questa cosa come si chiama HB HB Frog Suite thank you HB only HB please gruppi O esatto Claudio gruppi O perché noi pupazzi abbiamo il gruppo O positivo oppositivo gruppo oppositivo perché siamo oppositori no no per niente like your glasses vabbè ti piacciamo ci fa piacere questa cosa mi ha guardato dritto negli occhi ha detto dice poi Besna Taneschi riferendosi poi durante un'intervista presumo mi ha guardato dritto negli occhi e ha detto non ho fatto niente ne ho ucciso nessuno un giorno tutto verrà alla luce quelle furono le sue ultime parole non è oggi perché ancora a quanto pare allora non mi sembra siano state riaperte indagini a riguardo anzi articoli o podcast che ascolterete sul mosto di Gicevo dicono con assoluta certezza che Taneschi era il serial killer l'assoluta certezza che non proprio assoluta che però posso dare io perché sì per carità lui è morto non è stato fatto un processo adesso non sono state approfondite delle cose però però ci sono tutti i presupposti che fanno pensare fosse lui ci conviene usare magari un po' condizionale poi c'è la prova schiacciante del gruppo oppositivo che scusate scusate fa caldo io sto sudando voi non me ne rendete conto sì sì che ne rendiamo conto ne rendiamo conto insomma tutte le vittime erano donne delle pulizie anche il modo in cui la madre di Taneschi si era guadagnata da vivere e Taneschi è stato trovato morto nella sua cella in prigione condivisa il 23 giugno vedete qui un'altra fonte che invece di dire il 21 dice il 23 giugno apparentemente era annegato in un secchio di plastica pieno d'acqua un'inchiesta ha concluso che in assenza di altre prove la sua morte è stata un suicidio e questa è la fine è stata un successo una sua morte è stata un vero successo e questa è la fine dell'episodio sul serial killer di chi dicevo e come dicevo come dicevo do la mia parola a Stefano eh sì perché Vlado una cosa che tu non hai detto però l'ho trovata su diverse fonti che in realtà non è stata quella la sua ultima frase che il suo gruppo sanguigno era il P-posino ci ha detto io Vlado ma poi torno ok puoi andartene ma torno a B a B zero o più senso di zero no dici a B o ha più senso di a B zero ecco così facciamo contento can I see him here we go here we belong ok grazie grazie per essere stati in questo thank you tu com'è per essere stati to be here with us non lo so thank you for being here for being here I don't know ok it's the same do you understand ok perfetto no me neither grazie per essere stati in questo nuovissimo episodio di pupazzia dei pupazzia di umorismo criminale umorismo criminale se vi è piaciuto questo episodio fate una bella recensione su apple podcast ragazzi perché non ne abbiamo più ma tra l'altro non potete farlo solamente su apple cioè non dovete o non vi è permesso farlo solo su apple perché mario non vuole no no potete farlo lì o potete farlo su spotify potete farlo su tantissime altre piattaforme dove potrete esprimere il vostro gradimento per questo bellissimo porcetto che portiamo avanti da più di tre anni il primo podcast italiano di cronaca nera in chiave umoristica d'italia se non dell'intero pianeta intanto qua vi mettiamo il sito dove potete andare e coccolarci ecco a te caro hb i pupazzi eh eh a me mancano no a te mancano le cuffie mancano le cuffie mettitele te e quindi dai pupazzi alle gare e da tutto il popolo di italia 1 vi auguriamo un buon feragosto per anni pensioni minime a 1000 euro e la flat tax ci rivediamo a settembre per un episodio di che pupazzo succede e ultimissima cosa e parleremo e parleremo delle politiche di tutto un po' di roba però quella è un altro podcast parleremo parleremo di Renzi della Meloni di Calenda del programma del PD che è votate noi perché se no ci va la Meloni ma che cazzo di programma è ma che cazzo ce ne frega noi noi abbiamo il diesel ragazzi buon feragosto ci vediamo alla prossima volta ciao ciao arrivederci prossima prostata